Come nel film la banda degli onesti erano in tre, ma se Totop e Pino e Giacomo Furia, recentemente scomparso, avevano creato banconote false venendo investiti subito da rimorsi e paura, i tre campani di 55, 34 e 26 anni rispettivamente non sembravano proprio nelle stesse condizioni morali. Anzi, i finanzieri del nucleo di polizia valutaria di Roma e del comando provinciale di Napoli, coordinati dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, da tempo erano sulle loro tracce e hanno arrestato i tre in un locale al piano terra di una palazzina fratta minore, nel napoletano. Un vero e proprio laboratorio clandestino per produrre euro falsi. Erano intenti a stampare e tagliare banconote in particolare da 20 euro, pronte per essere immesse sul mercato. I falsari, abilissimi del mestiere, avevano realizzato un ottimo prodotto utilizzando sofisticati macchinari offset. L'opificio clandestino era stato occultato nel retro di un'officina meccanica per riparazioni di autovetture, anch'essa risultata abusiva. L'intervento delle fiamme gialle ha impedito ai tre responsabili di darsi alla fuga, cogliendoli infatti in flagranza di reato, mentre la produzione di banconote false era a pieno regime. Avevano realizzato l'imponente quantitativo di 9 milioni di euro falsi. Dagli accertamenti effettuati sulle banconote si è appurata la pregevole fattura delle stesse, in grado di ingannare facilmente chiunque. L'operazione delle fiamme gialle si inserisce nel quadro del contrasto del falso monetario a tutela di cittadini dell'economia legale dei mercati finanziari.